buongiorno ragazzi ricordo a chi volesse sostenere questo canale lo può fare gratis iscrivendosi ed attivando la campanellina un saluto innanzitutto a giuseppe bianconero e poi un'altra cosa sta ci sono delle persone che purtroppo non sono adatte a stare su youtube perché qualcuno sta impazzendo ed è vicino a farsi di chiudere il canale io spero che spinga ancora di più sull'acceleratore eh siccome io ho tirato fuori che il passaggio di vuote dimostrandolo che poi non è di vuote ma è di azioni era una fake news clamorosa ora ci stanno attaccando stanno infamando beh effemberg stanno diffamando me le stesse cose che questo personaggio fece due anni fa quando gli fu chiuso il canale quando con le lacrime e gli occhi mi fece chiamare da suo padre sta facendo le stesse cose poi dopo chiese scusa non era vero me le ero inventate per per colpirti sta impazzendo e sta facendo le stesse cose però non ti fermare perché a questo giro la chiusura del tuo canale sarà definitiva vai fino in fondo ma non fare chiamare papà per farti riaprire il canale però non far non non farmi più chiamare da tuo padre per fare più del canale perché non te lo riapro più vai fino in fondo fai tutte le live e voi tanto l'unica cosa che puoi fare te è quella di impazzire su youtube il passaggio di vuote dell'inter che non è di vuote ma è di azioni perché l'inter è una spa non è stato fatto ad oggi abbiamo fatto quattro controlli risultano tutti i pegni e qualora ci fosse stato un passaggio di azioni sarebbe stato subito comunicato nella visura camerale che è un documento che non secondo questi ignoranti rimane per un anno rimane sempre la stessa questi non sanno nemmeno cos'è una visura camerale ma qualora ci fosse stato un passaggio di azioni i cinque sette giorni lavorativi sarebbe già stato inserito nella visura camerale che ad oggi non c'è ci sono tutti i pegni oltre non è stata liquidata zango è stato liquidato ad oggi l'inter è ancora cinese al cento per cento siccome abbiamo smontato questa fake news dove qualcuno ci campava ancora con qualche viso allora ci stanno attaccando ci stanno dando di truffatori ci stanno stanno offendendo me la mia famiglia fm che stanno offendendo tutti perché il solito personaggio che si è fatto chiudere il canale due anni fa è impazzito un'altra volta e continua con le diffamazioni ma io non vorrei tutti fermarsi continua basta tu non mi faccia chiamare con le con il tuo padre però poi dopo puoi continuare perché a questo giro andiamo fino in fondo non ti preoccupare senza paura ricordatelo bene allora noi cosa abbiamo fatto cosa abbiamo fatto abbiamo cercato il signor zanon perché ci sembrava strano che uno una persona seria una persona dal prestigio di zanon no una persona cioè con tutto quel blasone avesse riferito a certi personaggi come come tra l'altro facevano sembrare loro su youtube perché noi ormai abbiamo fatto una raccolta di prove zanonne di qua zanonne ci ha detto zanonne mi ha detto lo abbiamo scelcato in tutti i posti signor zanon e signor zanon purtroppo purtroppo risulta questo dai giornali il paese il paese giornale giornali molto importanti risulta che il signor zanon cioè capito da quello che viene riportato il signor zanon sembrerebbe avere problemi molto più importanti che rappresentare la fonte primaria per notizie in ordine alla cessione del l'inter sembra avere problemi molto più eh importanti perché a quanto dicano sembra sia stato tratto in arresto il signor zanon sembra sia stato arrestato il due il tre dicembre questi sono articoli di eh due tre settimane fa ecco dicono che è stato arrestato poi ho chiamato una persona che eh che sa che traduce eh molto bene lo spagnolo e eh in uno di questi tre articoli io non conosco lo spagnolo dicono che il giudice ha confermato l'arresto con traduzione in carcere da cui poteva uscire versando la cauzione di eh sessanta mila euro quindi sicuramente il signor zanon non penso che avesse problemi a pagare sessanta mila euro ma è ovviamente il signor zanon dopo questo arresto ad altro a cui pensare noi come il canale degli esonerati che lo abbiamo cercato per confrontarci con lui proprio perché ci sembrava strano è vero che noi lo stimiamo e attenzione l'unica cosa che hanno detto vera è che noi lo stimiamo tanto è assolutamente vero e lo stimiamo il signor zanon quindi noi come canale degli esonerati io come titolare del canale degli esonerati ci auguriamo che possa dimostrare la sua innocenza ed essere prosciolto da tutte le accuse che gli sono state rivolte ci sentiamo più tardi per un altro video perché poi parto per un paio di giorni per il fine anno ciao inter grazie a tutti grazie a tutti